Diario di un incontro del filosofo e scientista teramano Marco Santarelli racconta una straordinaria esperienza di arricchimento e conoscenza reciproca. Protagonisti dell'incontro, lo stesso Santarelli e Margherita Hack, una delle astrofisiche più importanti al mondo prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia. Il volume, scritto a quattro mani dai due scienziati sotto forma di dialogo, racconta uno scambio di saperi, di un reciproco vissuto, che non è solo funzionale al mondo scientifico. Diario di un incontro verrà presentato ufficialmente il prossimo 4 febbraio a Trieste, città della scienza che per un giorno diventerà il palcoscenico d'eccezione della cultura abruzzese. Sono orgoglioso di presentare il mio libro in una città così aperta culturalmente come Trieste, ha spiegato l'autore Marco Santarelli, è il segno che il lavoro di noi abruzzesi, io come autore e la zigurat come casa editrice, viene apprezzato anche fuori regione. Ma la collaborazione tra Margherita Acche e Marco Santarelli non si concluderà con questo volume. I due autori, infatti, hanno già in cantiere un nuovo libro che vedrà le stampe nel corso del 2011.